Ben ritrovati, buongiorno, questo mercoledì 19 aprile andiamo subito a vedere come hanno chiuso le contrattazioni i mercati asiatici, quelli principali di riferimento. Il Nikkei ha guadagnato un timido più 0,03%, lo Shanghai Composite proprio non riesce a mantenere la parità in questi giorni e anche oggi ha ceduto oltre un punto percentuale. Giornata negativa ieri anche a Wall Street, sono arrivati alcuni conti trimestrali, soprattutto quelli di Goldman Sachs che hanno deluso le attese e così allora il Dow Jones ha ceduto oltre un mezzo punto percentuale. È stata una giornata negativa anche nel vecchio continente, il Fuzzimiba ha ceduto meno 1,67%, meno 1,12% invece l'Eurostox. Una giornata, quella dei dati macroeconomici abbastanza ricca, partiamo subito dall'America, una settimana ricca di dati macro ma particolarmente oggi scorte settimanali di petrolio e poi l'indice settimanale delle richieste dei mutui in Eurozona arriverà, il dato sull'inflazione, quella finale di marzo, la corra sempre di marzo e la bilancia commerciale di febbraio. Dovremo fare i conti con la bilancia anche in Italia per quanto riguarda il mese di febbraio e poi la bilancia commerciale Unione Europea sempre del mese di febbraio. Titoli di Stato, a momento il rendimento decennale italiano è fermo al 2,26%, uno spread di leggero ritracciamento, 208 punti base. Passiamo invece ai tassi di riferimento europei, l'interbancario a un mese in questo momento è in territorio ancora negativo, meno 0,37%, meno 0,33% se prendiamo la durata trimestrale. Tasso fissa a 10 anni, in leggera discesa 0,68%. Materie prime, mercato Nymex ovviamente, il WTI, il crudo scambiava ieri sera 52,41 dollari al barile, l'oro ancora in salita, 1.286 dollari l'once. Infine passiamo dal mercato più incandescente, nella giornata di ieri quello valutario, l'euro sul dollaro si è riportato sopra quota 1,07% ma soprattutto la sterlinga è impicchiata poco prima delle parole di Teresa May poi in ripresa subito dopo l'annuncio delle elezioni per l'8 giugno. E così allora ha ceduto l'euro in confronto della sterlinga lo 0,36%, questo momento scambia 0,84%. Per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie 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 Grazie